69 pagine fitte fitte di dati e tabelle, il presidente dell'Inps Tito Boeri fa sul serio e ora la politica dovrà esprimersi sulla sua proposta che dà ai poveri e toglie ai parlamentari. Per ridurre del 50% la povertà tra le famiglie che annoverano un over 55 con un'integrazione del reddito fino a 500 euro al mese, l'Inps propone di attingere risorse dalle pensioni d'oro. Secondo l'Istituto di Previdenza sarebbe auspicabile recuperare le coperture per gli interventi necessari tra le 250.000 pensioni elevate, inclusi gli oltre 4.000 vitalizi per cariche elettive e tra i 230.000 nuclei familiari ad alto reddito che ricevono trattamenti assistenziali ingiustificati. Nella sua proposta, che consta di 16 articoli, l'Inps ha incluso anche una modifica alle regole sulle pensioni internazionali, l'unificazione gratuita delle pensioni maturate in regimi diversi e l'equiparazione delle pensioni dei sindacalisti a quelle dei dipendenti pubblici. Nel capitolo dedicato ai vitalizi dei parlamentari c'è l'idea di procedere sin da gennaio a un ricalcolo delle pensioni secondo il metodo contributivo oggi applicato a tutti i nuovi lavoratori. Una vera e propria rivoluzione, insomma, destinata a scontrarsi con la formidabile resistenza di Parlamento e sindacato. Inoltre l'iperattivismo di Boeri potrebbe anche suscitare gelosia nel governo, a partire dal ministro competente in materia previdenziale, Giuliano Poletti.